Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video non andremo solamente a vedere come posare una rete da pascolo lungo il tracciato di pali che abbiamo visto nel video precedente. Siamo in una situazione collinare, la rete alla fine del lavoro presenterà delle zone molli nella parte inferiore o nella parte superiore in funzione dell'andamento del terreno. Quindi soprattutto andremo a vedere come sistemare una rete per un lavoro ottimale e non semplicemente la posa. Andremo a intervenire con dei tiraggi lungo il tracciato della rete se la rete è rimasta molla in alcune zone o se la rete non è rimasta sufficientemente tesa. Quindi andremo a vedere tutte quelle che sono le soluzioni per avere un lavoro ottimale. In questo nuovo video andremo a vedere la posa della rete da pascolo sui pali che abbiamo visto piazzare a terra nel video precedente. Facciamo questo video perché la posa della rete da pascolo non è come può essere tradizionalmente la posa di una recensione da giardino dove è tutto in piano, i pali sono perfettamente dritti, il livello è perfettamente piano, cambi di direzione perfetti. Qua il terreno non è costante, l'andamento non è costante, i pali non sono perfetti e quindi bisogna avere un po' più di elasticità per fare una posa di questo tipo per ottenere comunque un lavoro efficace dal punto di vista funzionale. Allora, ho parlato di rete da pascolo, però per tanti magari si stanno domandando che cos'è la rete da pascolo, cos'è che ha di particolare. Allora è questa qua che vedete al mio fianco. La rete da pascolo tipicamente è alta 1,40 m e presenta un andamento delle maglie differente nel senso che le maglie superiori sono alte circa 20 cm tra filo e filo. Man mano che scendiamo arriviamo a quelle centrali che scendono verso i 15 cm e arriviamo a quelle in basso che sono intorno ai 10 cm. Questo perché viene fatto? Viene fatto perché andiamo con un'unica rete a difendere dal passaggio attraverso la recensione diversi tipi di animali perché gli animali più piccoli, come possono essere le galline, dalla maglia da 10 cm comunque non passano ma un animale come per esempio può essere la capra non passa neanche nella parte superiore quindi per non spendere soldi inutili a costruire una rete con le maglie tutte fitte che poi sono anche peso inutile da trasportare, eccetera è una rete apposta studiata per gli animali quindi con questa disposizione. Quindi altro pregio di questa rete è il fatto che è zincata e non è plastificata quindi evitiamo che col tempo possa degradare la plastica e lasciarci in giro delle microplastiche nel terreno e in aggiunta è anche comunque più duratura in generale la rete zincata. Oltretutto il diametro del filo che vediamo quando una rete è zincata è il diametro effettivo quando vediamo il diametro del filo plastificato ricordiamoci che c'è sempre sopra un film che occupa un film plastico che occupa un po' di decimi per lato quindi andiamo a usare una rete che sembra grossa ma magari un po' più piccola e quindi nel tempo più debole. L'altra particolarità che andremo a vedere oggi in questo video e che principalmente sarà operativo è nelle fasi di legatura all'inizio per staffare la rete come vedete sul palo d'inizio rispetto al video precedente abbiamo aggiunto una saetta sia all'inizio che alla fine in modo che quando ci sarà la trazione della rete questa saetta andrà a scaricare la forza nel terreno per evitare che il palo di testa si pieghi e andremo a vedere soprattutto alla fine con l'utilizzo dei tiranti questi aggeggini molto semplici che costano una stupidata costano un euro l'uno che ci aiutano a tensionare la rete molto più di quanto riusciremmo a mano tenendo conto che quella a fare qui può tirare centinaia e centinaia di chili con il semplice uso di una chiave inglese quindi sono davvero utili per fare un buon lavoro adesso direi che da dire non c'è molto vi ho già specificato il tipo di rete vi ho specificato i tipi di palli li potete vedere nel nostro video precedente come abbiamo fatto a piantarli ve lo linko qua sopra come al solito se volete andare a vedere e niente mettiamoci all'opera allora facciamo una breve interruzione per vedere come abbiamo fissato la rete intorno al palo di testa allora siamo partiti con la rete e abbiamo avvolto tutto il palo con ogni maglia difatti come vedete ogni maglia passa attorno al palo questo l'abbiamo fatto perché piuttosto che fissare la rete in testa al palo quindi affiancata e poi legarla con dei fil di ferri distribuisce molto la forza di tiro e oltretutto invece che lavorare solo concentrato nella zona dove la lighiamo distribuisce tantissima forza per attrito questo migliora tantissimo la durata perché anche sul palo è meno sollecitato in una zona concentrata ma il carico è tutto distribuito le zone dove siamo andati a legare non abbiamo fatto altro che avvolgerci intorno prima abbiamo legato quello in testa poi abbiamo legato quello in basso e dopodiché abbiamo fatto il centrale e poi tutti gli intermedi questo è per capire come orientare la rete nella maniera corretta tant'è vero che in questo caso come vedete il palo è leggermente inclinato così fatto apposta perché essendo quello di testa non manderemo in tensione la rete tenderà ad adrizzarsi col tempo questo però vuol dire che sopra la rete dovrà essere un pochino più lunga e sotto un pochino più corta quando partiamo allora impostando la prima maglia di testa l'ultima di fondo e quella centrale abbiamo una distribuzione per legarli più uniformi possibile lasciarli più tensionati nella maniera corretta ora ovviamente non sono tesi al massimo perché dobbiamo ancora tirare dalla parte opposta però intanto abbiamo fatto un buon ancoraggio adesso abbiamo tutta la possibilità di tirare quello che vogliamo fino a arrivare alla parte opposta quindi proseguiamo con il lavoro grazie a tutti 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 palo dopo averla fissata nelle parti intermedie con un filo in alto da legatura un filo centrale e un filo in basso per tenerla posizionata sui pali perché se adesso li guardiamo per la lunga oltre che sembrano un pelino storti va beh siamo su un dirupo ma soprattutto vanno verso l'alto verso il basso perché il terreno è a momenti concavo momenti convesso quindi per tenerlo in posizione quando andiamo a tirarlo se no quando andiamo a tirare i morsetti i tiranti alla fine ci troveremmo che la rete tende a disporsi su una linea retta e ci sfaserebbe con l'andamento dei pali quindi l'abbiamo vincolato e adesso abbiamo fissato i morsetti in fondo per andare a effettuare il tiraggio non ho legato di proposito la rete nell'ultimo nell'ultimo palo perché prima la tiriamo una volta che è tensionata in tutti quelli centrali la rete scorre all'interno dei fili da legatura nel palo di testa la legheremo dopo che abbiamo tirato i tiranti in modo che rimangono tesi anche questi se no rischieremmo allora mi porto il tirante dal lato esterno il tirante semplicemente si governa con una chiave e si fa girare il rocchetto il rocchetto ha un dente di sega che vediamo qua e praticamente fa da cremagliera c'è ogni volta che lui tende a srotolarsi tac si impunta sul dente mentre quando io voglio tirare scappa facendo 90 gradi di tiro ogni volta adesso allineo il filo con il foro centrale è un po più comodo con l'aiuto di una persona comunque spingo all'interno il mio filo e con la chiave faccio il primo giro che gli da la piega e crea l'attrito perfetto adesso questo qui da qui non scappa più come vedete già sta tirando tantissimo la rete una roba che a mano sarebbe completamente impossibile il palo non ha problemi non rischia di scattare perché anche questo qui alla saetta come in quello di testa che abbiamo visto all'inizio quindi non abbiamo di questi problemi adesso in questo caso io vado a collidere con questo adesso fra poco questi qui possono scorrere con un po di fatica adesso eccolo qua ok stessa cosa la facciamo nel morsetto sotto dopodiché andiamo a legare tutti quelli intermedi e una volta che abbiamo fatto questo il morsetto di testa è sistemato dopo fatti vediamo cosa fare nella parte intermedia dove la rete è rimasta molle per le parti concave molle per le parti convesse allora cos'è che stiamo facendo adesso come abbiamo visto abbiamo messo i tiranti in testa e qui abbiamo messo un tirante in basso non abbiamo messo un tirante in basso a caso qui cosa succede la rete in questa zona noi l'abbiamo posata tutta ma qui faceva una pancia e se voi la mettete e fate il lavoro dite che schifo che sto facendo e anche noi le prime volte lo pensavamo poi abbiamo capito che non c'è altra soluzione se non intervenire dopo perché tenderla in un colpo solo è la cosa migliore rete intera tra virgolette ben tesa eccetto dove il terreno fa così e poi così e quindi la rete essendo comunque rigida si trova avere il filo superiore inferiore teso cioè quello sotto molle o viceversa quello sopra in funzioni come è andato il terreno e quindi succede che la rete fa vabbè adesso fa un po meno perché ho già iniziato a tirarla comunque questo effetto ha ancora maggiorato fa una pancia vera e propria allora cosa facciamo dal lato dove la rete ha fatto così sotto e molle mettiamo un tirante per mettere un tirante è piuttosto facile perché noi cosa facciamo interrompiamo sul filo di fondo che è più grosso degli altri fondo e testa un diametro più grosso lo mozziamo da un lato prendiamo il capo lo infiliamo dentro qui e facciamo un occhiello per tenerlo fermo l'altra estremità la infiliamo dentro qui e iniziamo tirare come abbiamo visto all'inizio praticamente iniziamo accorciare solo che poi i fili sopra fanno sta roba qua si agrovigliano perché abbiamo tensionato sotto la rete si sistema si tensiona ma qui in mezzo va risolto allora le prime volte tagliavamo e rigiuntavamo la rete ma poi non tanto per non rovinare la rete perché quando uno fa un lavoro del genere non è che la riesce a utilizzare facilmente però soprattutto per non lasciare punte in giro dove anche gli animali si possono bucare noi quando passiamo ci possiamo bucare tagliare la stessa rete la piego a occhiello e poi col manico liscio della tenaglia se è piccolo solo con un manico se grosso con due manici la andiamo a occhiellare qui non è che in parte la stiamo tirando ma in realtà non è un vero e proprio tiro è semplicemente per tenerla tesa in funzione di quanto abbiamo tirato il tirante nel filo in basso o in alto adesso qui addirittura quasi servirebbe più di una maglia perché qui è il punto dove cambia più tendenza di tutti ed è il punto più drastico veramente infatti qui abbiamo eliminato completamente una maglia se fate il conto abbiamo due figli a fianco ovviamente io ho tenuto tutti gli occhielli dal lato dove passiamo meno però non sono pericolosi quindi è un po' di più Grazie a tutti. Uno spettacolo. Uno spettacolo.